500 adesivi con il codice a barre bidimensionale sono esposti negli uffici e nei locali pubblici di Isernia, allo scopo di ampliare al massimo la possibilità di consultare le notizie riguardanti i numerosi eventi che avranno luogo nel corso dei mesi. Si tratta di un metodo rapido e moderno che consente un facile accesso alle notizie su concerti, incontri letterari, spettacoli teatrali, film, mostre e tanto altro. L'assessorato alla cultura del comune di Isernia ha predisposto infatti sul sito web dell'ente di piazza Marconi un'apposita sezione dove poter esaminare l'elenco delle iniziative che si terranno in città durante l'anno Per una più rapida consultazione delle manifestazioni programmate, ha spiegato l'assessore comunale Luca De Martino, è stato generato uno specifico QR code che in modo permanente darà accesso al dettaglio degli eventi, sia quelli promossi direttamente dal comune, sia quelli proposti dalle associazioni e dalle organizzazioni culturali che operano in città. Un mezzo migliore e più veloce per restare aggiornati, utile non solo ai cittadini ma che agevola anche chi opera nel mondo del giornalismo e della comunicazione, che intende divulgare professionalmente gli eventi che la città di Isernia propone durante l'anno.